Attenzione, il seguente video è sconsigliato per chi soffre di patologie cardiache. Se volete vederlo e avete una di queste malattie, io vi consiglio il termine di fibrillatore a portata di mano. Il primo minuto può sembrare noioso di questo video, ma vi sicuro che il secondo è ancora meglio. Grazie per la visione. Bene. Dopo secoli e secoli e secoli e secoli e... Uno, due, tre, quattro, cinque... Un attimo. Uno, sette... Sette giorni. Dopo secoli e secoli e secoli e secoli e sette giorni, raga, sono tornato. Mi sono preso una leggera vacanza e oggi sono tornato. Più forte di prima. Più speranzoso che mai. Tra l'altro sembra che mi sono aperto una mano, ma in realtà sono solo le cuffie che hanno la luce. Vabbè. Quella è roba da poppeia. Adesso magari spegniamole anche perché distraggono un po' l'attenzione. Ok. Premessa. Questo video sarà brevissimo, giusto, perché c'è stata una sporadica... No. Sporadica? Non mi cata. Quando ci sono gli eccessi di ignoranza, vengono fuori queste cose qua. Quindi io volevo soltanto dirvi addio e lasciarvi al video. E voi potete comprare questo bellissimo monitor in più solo per oggi. Vi do anche le casse e il mouse e la tastiera e il computer. Se volete tutto questo a soli 5 euro. Abbiamo anche il proiettore. Il proiettore è quello là. Quello là è un po' difficile da far andare, però ci riusciamo. Però quello che dobbiamo vendere oggi è questo monitor HP 1730, fantastico. Abbiamo anche la compatibilità con Windows Vista, Windows 9, Windows NAS o Windows qualcosa. Allora io vi dico, comprate questo monitor che è anche... Sì, lo inquadro per i coglioni. Che è anche casse incorporate. Guardate, voi mettete dentro Jack quattro, lo mettete nella porta? Io vi vendo questo. Ma dai, dai, dai. Lui sta soppoccando. Io vi vendo questo fantastico monitor con le casse che funzionano. Che non vanno però tanto bene. E il mouse tutto ha più per soli 5 euro. Questa è l'offerta di media shopping.